Ciao Fede, hai comprato un'altra skin? No Non è possibile L'ho trovata Stef, non l'ho comprata Non puoi trovare una skin Fede Sì che la posso trovare, io posso Stai mentendo, io lo so Io posso, non l'ho comprata Ti blocco la carta E ragazzi, come va? Io sono Fede Niki Io sono Stef, e che stai con me a farne? Benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite Stef, spiega un pochettino cosa andremo a fare oggi Quest'oggi ti porto in uno di quei posti davvero interessanti per il loot Perché c'è un posticino molto segreto Ok Vicino a un posto gigantesco dove nessuno va mai E tendenzialmente si trovano due chest Che non sono male per nulla Perché pensa te, un posto dove non va nessuno Dove ti sei presa al 100% due chest Non è male per niente Allora, dobbiamo aspettare un pochettino Perché sta vicino ad Acre Anarchici Quindi siamo totalmente dalla parte opposta Dall'altra parte della mappa Però la vedi quella sorta di forma di ombrello, Fede? Sì, lo vedo È proprio lì È proprio quello il punto Lì troviamo due chest Non ci va mai nessuno Perché ovviamente lì vanno tutti ad Acre Anarchici Proprio tutti, tutti, tutti Certo, certo E quindi lì vai sul sicuro Ti prendi il tuo loot Non è male Soprattutto per quando giochi da solo Secondo me Perché comunque due chest non bastano Però quando sei da solo non è male E quindi un ottimo posto per iniziare safe Un game Lo vedi l'ombrello dall'alto? Sì, lo vedo Guarda che vedi no Mi ci sto già buttando, Steph Secondo me quasi nessuno ha realizzato che è un ombrello Dico Neanche tu Perché te l'ho detto io stamattina, Steph Adesso sto facendo lo sborone Oh, perreo Guarda l'ombrello Gli lo detto io che ha forma di ombrello Per me era un fossato Normale Continuava a dire fossato Io l'ho guardato Gli ho detto ma scusa È a forma di ombrello sta cosa Adesso fa Oh, io l'ho notato Gli altri player No Bravo, Steph È un fossato, dai È normale che non stai a pensare che c'ha pure la forma Allora, vedo anche delle cose verdi Hai visto? Da un lato e dall'altro Tu vedo da quel lato Ah, qui c'è un pompa Bello, bello Ok, e mi sa che da qua Un'altra pompa Vabbè Due pompa verdi Non male, non male Così sul sicuro Sono già qualcosa Non è male Dopodiché Ferre, dove stai andando? A prendere i materiali C'erano altre cose da luttare Ok, ok, ok Dopodiché si scende qui sotto Si gira a destra E se abbiamo fortuna C'è la prima chest E sì che c'è Ed eccola qua Ok Eh, bella Pistola epica Bello, bello Abbiamo già vinto Ok, Ferre, dove è l'altro? Qua Perché si vede qualcosa attraverso Io lo vedo che c'è qualcuno Però ci sono le rocce che nascondono Ma non c'è Non c'è la chest Nascosta, Steph Lo so, ho notato Doveva essere qui, vero? Comunque è sempre qui Ok Abbiamo capito che ogni tanto Non spona Io l'ho sempre trovata comunque Non vorrei dire Ma l'ho sempre trovata Entrambe Ovviamente poi Quando lo vuoi far vedere in video Non c'è Perché mi sembra logico Sì, perché la fortuna vuole Che dobbiamo fare le figuracce Di quelle proprio belle Comunque dai Non siamo equipaggiati Troppo schifo Perché abbiamo entrambi Il pompa verde Quindi possiamo Permetteci di fare un fight Mi prendo un attimino Un po' di legna Qui sopra hai visto cosa c'è? Eh, no Non ho guardato Aspetta Prova guardare Saltando Vedo qualcosa di bianco Quindi comunque non c'è una cesta Quindi possiamo sfondare da così Per evitare di Di buldare Un po' di munizioni Vabbè Niente di che Fare vuoi andare Ho visto già dei player Dove, 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 dove A 105 Sta correndo verso il capanno di legno Andiamo a prenderlo di nascosto Va bene? Sì Lo so che è una cosa pericolosissima Soprattutto perché io non ho niente Per sparare a distanza È proprio zero Niente io Niente io Cioè la pistola Non neanche provo ad usarla Direi di andare direttamente addosso Nel caso buldo un po' Qualche ponte Le andiamo addosso E gli spacchiamo la faccia Allora E l'hai visto uno che sta buldando Per andare nell'edificio Quello grande Sta spaccando in questo momento Sì, sì, sì Ho visto Ne vedo un altro dietro di lui Che se non lo spara Sono in team insieme Quindi sappiamo la posizione di entrambi Uno è qui E uno ancora più in fondo Ok Di conseguenza Noi Da qua Entriamo qui Ok, aiuto Che ansia Hanno sparato Eh sì Il che non mi piace Nenche a me Però no, hanno sparato a noi, vero? Non sembra, eh Non sembra Sopra di noi Pronta? Sì Ok Let's go Sento gente che balla C'è qualcuno che balla Quindi c'è qualcuno che fighta Perché qualcuno ha tirato la bomba Mi sa che stanno fightando qui sotto Ok Andiamo in mezzo alla risa Buttiamoci in mezzo e moriamo, Steph Ok Vai, gli ho tu due colpi Ok E qui a destra? Ok Ok Morti tutti? Sì Mi sembra di sì Occhio, ci potrebbe essere ancora gente viva Oh, mamma mia Che bellut Oh, mamma mia Che bellut Preso, preso, preso Ok Pistola, prenditi il cecchino Dov'è, dov'è, dov'è Non vedo nulla Perché c'è troppa roba Ok, ci sono, ci sono Ok, c'è anche una mitraglietta viola Che mi sa che me la prendo io Al posto della pistola viola Oh, sì Lo puoi prendere Ok, datemi un po' di munizioni Che fanno sempre comodo A questo punto Non sappiamo se c'è ancora gente viva Beh, contro qualcuno stavano fightando Quindi a meno che non li abbiano uccisi A meno che non troviamo i calaveri Magari c'è altro loot e neanche lo sappiamo Eh, non lo so Allora, stai a pompa Ho solo cinque colpi, però, eh Questi qua non avevano molte munizioni Pensa che il fucile del cecchino ne ha zero Eh, ce li ho tutti io Quelle del cecchino Te le do dopo Eh, bravo, bravo Eh, lo sai che le rubo sempre, Fer È più forte di me Ok Come facciamo a passare senza perdere troppo tempo? Così? Così Ok Più o meno perché non riesco a saltare Ecco fatto Non capisco Non capisco Però, ah no, qui dove eravamo Ah Non lo so Cioè, a chi sparavano? Forse stavano ballando da soli O forse il loot era di tre persone e non di due Eh, è probabile Ed erano due contro uno Dai, sì, ha senso, ha senso, ha senso Può essere Vabbè, spostiamoci da qui per non essere colti di sorpresa Esatto Quindi andiamocene via un attimino Qua, questo è il mio punto Ti piace? Vai, dai, vai in mezzo al fieno così non ci vede nessuno Ti devo dare, quindi Dei colpi del cecchino Giusto? Sì, 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 sì Do una decina Ok Dovrebbero bastarti Tieni Dopodiché mi sparo l'unico shield che purtroppo ho trovato Quindi ne ho soltanto 25 E mi sistemo l'ordine delle armi Facciamo così, così, così A questo punto siamo ben messi Oh, io ne ho altri shieldini Se ne vuoi un altro per arrivare a 50 te lo do Sì, 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 molto gentile Non sapevo ne avessi trovato così tanti Ah, e poi mi ha detto che non avevi colpi del pompa? Sì, ne ho solo 10 E allora te ne do altri 8 così 18 Ok, dai, per ora va bene Per ora va bene Allora, shieldino me lo sparo Quindi 50 shield a testa Full vita Abbiamo un medikit Due fucile da cecchino I pompa Tu hai un fucile d'assalto normale? No Ho trovato un lancia granate Che non è molto utile in questo momento Però No, mi dispiace Non ho altro Che strano Cioè Trovare tutto quell'ute Non trovare il proprio fucile d'assalto È stranissimo Eh beh, avevano solo mitragliette Il tripistole Che sinceramente Cioè, preferisco aspettare il fucile d'assalto Ti dico la verità Sì, 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 sì Vediamo lì Comunque questa zona non sembra lootata Perché ho appena trovato anche delle munizioni Quindi magari c'è qualcosa Ah, ottimo, ottimo Avete un po' di materiali Prenditeli Qua C'è una cesta che hanno aperto Da cui non hanno preso tutto Mi prendo io le granate Perfetto E direi di iniziare a spostarci un po' Siamo dentro la zona comunque Quindi c'è andata bene anche quello Sì, 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 sì Due kill io Zero tu Perché sì, ne avevamo trovato soltanto due Siamo partiti bene Hai visto comunque? Giochi safe Ti prendi un po' di loot Arrivi in città Nel momento giusto Ti killi tutti quelli Hanno lootato al posto tuo Esatto, esatto E hanno rischiato la vita al posto tuo Perché tu neanche sei lì a rischiare troppo È una figata È una figata pazzesca Ti aspetta una lunga camminata Fer E per di più la zona Prende un po' in pieno il lago del Bottino E dato che non ci voglio passare nemmeno vicino Passiamo da destra E andiamo verso il parco pacifico Che non è proprio pacifico come posto C'è da dirlo Però il lago del Bottino Secondo me è il peggio del peggio Perché si è scoperto da ogni lato In una maniera incredibile Magari ci passa qualche player Qualche killettina La prendiamo volentieri Può essere Li hanno bullato Quindi ok Tutto lootato Ma quello è scontato Niente c'era bisogno di vedere qualcosa Certo, come sempre Però non mi sembra di vedere nessuno che si muove Vero? No, non sembra neanche a me Non vedo movimenti Uh Uh, li hai appena visti? No, un airdrop Ah, dove? Non lo so Sto guardando intorno in questo momento Non lo vedo Non è che sta dietro questa montagna da qui E quindi magari è anche vicinissimo No, è lontanissimo È verso questa direzione Guarda dove sto guardando io Lo vedi lontanissimo lì il paracadute tra il nuvole? Quello, sì, esatto Ok Quindi è molto lontano Solo uno? Mi sa di sì, vero? Mi sa di sì Non ne vedo altri perlomeno Quindi mi sembra solo uno Niente airdrop per noi Ho sognato troppo Andiamo Allora, nuova zona Verso il parco pacifico Quindi stavamo andando nel posto giusto Siamo comunque vicini 32 player La zona inizia a essere piccola Quindi preparati perché Entro uno o due minuti Secondo me è ora di fightare E voglio vincere Te lo dico Secondo me Non siamo messi per poter vincere ancora Eh, esatto Io perlomeno sono messa abbastanza male Te lo dico Siamo secondo me messi abbastanza bene Per poter fightare Per vincere un fight Esatto Se vinciamo un altro fight E ci prendiamo il loot di altri due Secondo me a quel punto siamo ben equipaggiati E ce la possiamo portare a casa Comunque 230 di legna Non è male Tu quanto ne hai? 187 E 120 comunque di mattone Quindi mi va bene Ok, ok, benissimo Benissimo Stiamo attenti soprattutto dall'alto Vero? Quindi per attenzione Sì, sì, sì Molto lontani? Sembravano abbastanza lontani Però non ti so dire quanto Ok Probabilmente in questa zona Siamo vicini al parco pacifico Quindi ormai c'è nulla di strano Che c'è gente che si spara Allora, vediamo un pochino intorno Ricontrollo un attimo il lago del bottino Per vedere se magari sta arrivando adesso qualcuno Che sta scappando dalla zona Mi pare di no Ok Vero? No, non sembra neanche a me Per l'uomo non vedo niente Ok, andiamo Ferretti, giuro che Ah Eccoli Aspetta E uno preso Ok, stanno bullando Stanno bullando Stanno bullando Sì, sì, sì Vuoi andare a prenderli? Non lo so Sono molto in alto Dovremmo fare un bel giro Eh, dovremmo fare un bel giro Che dici? Dai, proviamo Proviamo Rischio, eh È un rischio pesante Allora, c'è da dire che loro stavano sparando ad altri Quindi probabilmente non siamo soli, Steph Sì, 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 quello è più che ovvio, Ferre Ho una paura matta mentre sto facendo sto ponte, devo essere sincero Ok Adesso andiamo ancora un pochino più in alto Così dovremo essere sopra le loro belle testoline Occhio un attimo che potrebbero essersi mossi Oh, una chest Una chest Prendila, scusa La bomba ballerina In un momento del genere Io la prendo Eh, esatto Perché no? Aspetta Ok, ne vedo uno Stai fermo un attimo No, lasciamo perdere Mi temete ansia Con chi stanno sparando comunque? Non lo so Perché è più importante capire con chi stanno fightando Forse quelli lì in fondo verso 210 Comunque hanno provato a colpire anche a noi, secondo me Sì, 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 sì Sì, sembrano i 210, Ferre Sì, sembra che stanno fatta andando Ci buttiamo come dei pazzi a pompa? Vai Non so come andremo Proviamo Vado? Andrà male Ah, no, hanno iniziato a bullare Stai giù, stai giù, stai giù C'è anche un air drop vicino A sto punto direi di aspettare un po' e vedere la situazione Guardiamoci un attimo intorno per capire Ferre player, player, player Ci ha visto pure Dove? Qua sotto di noi Ok Porca miseria Io gli tiro una bomba ballerina Vai To Balla È sbagliato perché non sta ballando Lo so Mi sparano da dietro Scherzi? Eh, no, mi ha preso qualcosa alle spalle Aia, mi stanno facendo malissimo Porca miseria Porca miseria Ma da dove era? È arrivato da dietro, non so da dove Però non erano quelli altri due Non sembra Era l'amico di questo qui Che stava facendo una strada completamente diversa E li stanno risparando Ma che cavolo è successo in questo posto? Però adesso che eravamo circondati No, c'era Io l'ho anche immaginato che non fosse una buona idea andare proprio così In un momento in cui ci sono Andiamo in una città a sfogarci, Ferre Perché sono arrabbiato Andiamo Erano sparato? Sì Ma te o qua fuori? No, penso fuori Perché io sono qua Non mi ha calcolato nessuno Sento passi Sono qui fuori Dove sei tu? Eh, io sono fuori Ok Io sono ancora dentro casa E infatti forse i passi che sento sono i tuoi No, è qua, è qua, è qua Sotto la tua scala Oh no Io cerco di nascondermi qui sotto E di spararlo appena sale Ok Dove sei tu? Eh, io sono fuori Sto risalendo Sto distruggendo la scala Arrivo Dov'è? Dov'è? Non lo so, però ha distrutto la scala Aiuto? Secondo me era in una di quelle stanze Può essere Che ansia che mi sta facendo venire Vado nel balcone È qua, è qua, è qua in un angolo Ma che cavolo? Ferre Ha buttato la bomba ballerina E sta ballando anche lui Aiutami Step, dove accidenti sei? Perché qua non servino G6 Vai No, Steph Cioè, sei una persona terribile Dove eri? Ho trovato l'amico fuori Eh, ho capito Ma questo mi ha ucciso Dov'è? Con la bomba ballerina Dov'è lì sgraziato? Sopra Dove ti avevo detto che era Eh No Grazie, perché l'avevo lasciato basso, ovviamente Ma dove cavolo si era nascosto? Nella stanza Te l'ho detto subito Qui Ti ho detto È andato Sì, era lì nell'angolo Ho acovacciato Esattamente dove sei tu E ti ho detto È nella stanza Vabbè Mi prendo il tuo fucile a pompa blu Praticamente io sono sceso Sei odioso No, no, ti devo spiegare No, stai zitto Non ti voglio neanche spiegare Sono sceso Stavo risalendo E mi sono trovato l'amico a fianco Acovacciato E ho preso Ho sparato lui Qua dovevo fare Vedi, era qua Guardi, ti posso anche provare Che è tutto vero Eh, non mi interessa Dov'era E che non sto inventando nulla Mi prendo anche il suo fucile a cechino Beh, ragazzi Dici un bel like E questa è la prima volta Che avete un nostro video Potete considerare Iscrivervi per non perdere Di altri video Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao